Le pose impressionanti di Serene Sarikaia hanno incantato i suoi fan. Sono in corso i preparativi per la serie, Samiran, che vedrà protagonista Serene Sarikaia e sarà trasmessa su Netflix. La bella star è anche in vacanza, godendosi il mare e il sole prima dell'inizio della serie TV. Condividendo i suoi momenti di vacanza con i suoi follower sul suo account Instagram, Serene Sarikaia ha incantato i suoi fan con le foto che ha messo una dopo l'altra. La posa della bellissima attrice nel suo sexy bikini leopardato ha ricevuto migliaia di like e tanti commenti. Serene Sarikaia attira l'attenzione con il suo corpo in forma nelle foto. L'attrice ha perso più di 4 kg in due settimane per la sua nuova serie, Samira. Si è scoperto che le riprese della nuova serie, che ha attirato l'attenzione come un progetto fantastico, si terranno ad Adana. Serene Sarikaia tornerà sui set dopo una lunga pausa con la sua nuova serie. Interpretando il personaggio di Alice in Alice Musical, nel 2019, l'attrice è diventata una delle attrici di maggior successo degli ultimi anni.